ciao a tutti oggi andiamo a vedere come spappolare il deprecano ma vi raccomando lasciate un bel pollice in su e l'olio con l'arma d'oro pesante bene e e che culo questi mi stanno aspettando ma dai ma questo che non muovo non muovo welevo lo spio nemico corretta anteriore contatto nemico a Deibolf occupiamo Charlie Ma lo sai quanto gli mancava? Uno sputo a quello Guarda se lo sono fatto loro Uno sputo gli è mancava Cristo io ho ammazzato, io ho ammazzato E' mancava, assurda E' mancava E' mancava Oddio Oddio Guarda questo da diebra Quanto rompono ok Andiamo a prenderlo! Andiamo a prenderlo! Bombardiere in zona! Attacco in Cendiago e Finette! Bombardiere in zona! Bombardiere in zona! Ho ripreso la compa! La ripresa! Sono 20 kill! Sono 20 kill compa! Tutte con arma eh! E se non siete contenti... ... 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